Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la pagina politica perché si riunisce la direzione regionale del Partito Democratico che conferma la rottura con il Movimento 5 Stelle sul futuro in Molise. Il segretario Vittorino Facciolla prende tempo, cerchiamo di capire se esistano ancora spiragli. Greco invece gela l'alleato, un percorso che si è chiuso, ha detto, intanto tra le polemiche passa in Consiglio regionale all'unanimità la legge di stabilizzazione dei precari della sanità. Sentiamo in apertura Pasquale Di Bello. Il segretario regionale del PD Vittorino Facciolla riunisce la direzione regionale del partito in vista delle politiche del 25 settembre. All'ordine del giorno la condivisione dei criteri per le candidature da proporre. Tutti i dirigenti devono essere a disposizione, dice, a partire dalla sua stessa disponibilità. Sui rapporti con i 5 Stelle la chiusura è totale, sul piano nazionale, su quello locale il segretario fa melina e prende tempo. Chiederò di dare la disponibilità alla candidatura di tutti i dirigenti del partito. Chiederò al partito regionale di venire fuori con un documento che manifesti l'unità degli intendi in maniera tale da poter decidere le candidature senza l'interferenza tipica romana. Chiederò di nuovo mandato alla direzione per la segreteria a continuare a trattare con i centristi, con il campo che in qualche modo Enrico Letta ci ha indicato. Far cadere il governo Draghi in questo momento è stato dai responsabili. E' anche chiaro che noi proveremo a ricucire con il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le elezioni regionali del 2023. Sul versante 5 Stelle alla presa di posizione del PD ne corrisponde una dello stesso segno. E' separazione a tutti i livelli sul piano interno, Greco invece pronto a candidarsi alle politiche se il Movimento lo chiederà. A questo punto se effettivamente Letta dovesse confermare la chiusura al Movimento dimostrerebbe che non aveva intenzione di allearsi con noi ma aveva intenzione di fagocitarci che è un concetto diverso. E' chiaro ed evidente che con chi continua ad insultare non il Movimento ma l'agenda sociale del Movimento. Sul piano locale chiaramente non può che essere, cioè il piano locale non può che riflettere ciò che avviene a livello nazionale altrimenti sembreremmo schizofrenici, questo lo ha detto Conte. Nella seduta odierna del Consiglio regionale approvata all'unanimità ma tra le polemiche la legge di stabilizzazione dei lavoratori precari della sanità, durissimo Greco, una legge che verrà bocciata dal governo dice. Io ho detto chiaramente che questa legge è una presa in giro per gli angeli del Covid e mi dispiace dirlo, mi dispiace dover essere io a dare questa notizia, però una legge che è palesemente incostituzionale. Le soluzioni per i giovani che hanno preso per mano il Molise nel momento più difficile c'erano e andavano attuate nel momento in cui il Movimento 5 Stelle lo ha chiesto, ovvero non dovevano essere assunti con una partita IVA ma dovevano essere contrattualizzati con dei contratti almeno a tempo determinato. E sulla stabilizzazione dei precari Covid arrivano anche le parole dell'ex presidente della regione, Michele Iorio, secondo il quale è stata restituita dignità ai lavoratori. Nonostante il distingo e la tensione tra i partiti, ha commentato Iorio, la proposta di legge che mi vede primo firmatario e che è stata condivisa anche dai colleghi Cefaratti, De Gidio e Romagnuolo, rappresenta un atto doveroso per restituire dignità a centinaia di quei lavoratori precari che in periodo Covid hanno prestato servizio nonostante le immense difficoltà. Dunque dopo le dichiarazioni del segretario nazionale del Partito Democratico tramonta ogni ipotesi di alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni politiche, quali riflessi avrà la decisione di Letta sulle candidature grilline in Molise, sentiamo Enzo Di Gaetano. Oramai la rottura è ufficiale consacrata dalle dichiarazioni di Enrico Letta su Repubblica. Il PD non può partecipare a nessuna coalizione con il Movimento 5 Stelle. A cascata è presumibile che lo stesso discorso sia replicabile per le regionali. Intanto però la notizia del giorno è che proprio il Movimento dovrà darsi da fare per trovare i suoi quattro candidati per Camera e Senato, sempre se non pioveranno candidature da Roma. Il coordinatore regionale, Antonio Federico, non potrà più essere candidato, ha già svolto i suoi due mandati, prima alla Regione e poi alla Camera. Per la Manzo stesso discorso, due mandati effettuati. Anche lei ferma i box. Resterebbero come potenziali candidati al Parlamento gli altri cinque consiglieri regionali e il sindaco di Campobasso Gravina. Ma per tutti loro un'altra regola del Movimento funziona da freno a mano. Infatti è possibile un secondo mandato, ma solo se il primo è già stato completato. A questo punto davvero quella che rischia di essere ripescata è proprio la Rosalba Testamento, che intanto ha chiesto a Conte di essere reintegrata tra i 5 Stelle. Per lei uno spiraglio ci sarebbe, dando per scontato che i 5 Stelle da soli non ce la farebbero né al maggioritario alla Camera né al Senato, resta la speranza del proporzionale a Montecitorio, dove non serve arrivare i primi, perché l'assegnazione avviene col sistema dei resti nazionali, come accadde nel 2018 per l'Occhio Nero. Voltiamo pagina perché con i due morti di oggi sale a 649 il numero complessivo delle vittime da Covid. In Molise è deceduta una donna di 94 anni di Campobasso e Carmine Dottavio, 50 anni, presidente della Lega Fibrosi Cistica del Molise. Dei 749 tamponi processati, 436 sono risultati positivi. Di questi 91 a Campobasso, 48 a Termoli, 24 a Isernia, 16 a Guglionesi, 13 a Riccia, 11 a San Martino in Pensilis, 10 a Venafro, Vinchiaturo, Larino e Boiano. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 5.736. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 455 guariti. Andiamo a Isernia perché il corso di laurea in Scienze Infermieristiche riprenderà regolarmente lo ha annunciato il governatore Donato Toma a seguito del dialogo intercorso con la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni. Tutti i dettagli nel servizio di Valeria Migliore. Il corso di laurea in Scienze Infermieristiche eserni e salvo lo ha annunciato il governatore Donato Toma durante il Consiglio regionale. Una lettera ricevuta pochi giorni fa dalla rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, ha riaperto ufficialmente i giochi. Una buona notizia per i cittadini di Isernia che negli scorsi giorni, dopo l'annuncio della possibile chiusura della sede universitaria, si erano mobilitati anche con una petizione. Il corso dunque ricomincerà regolarmente in accoglimento del protocollo d'intesa con la Sapienza inviato da Toma il 21 aprile scorso. Questa università, si legge nella nota inviata dalla Polimeni a Toma e a Florenzano, ha preso positivamente atto della volontà della regione molise di riprendere la collaborazione con la Sapienza attraverso un nuovo protocollo d'intesa. Soddisfatto del traguardo raggiunto il presidente Toma, che ribadisce la continuità del dialogo con la Sapienza anche in futuro e si dice sicuro sul buon esito del protocollo d'intesa. Intanto Toma ha inviato una lettera alla direttrice generale per la salute Lolita Gallo, al direttore generale dell'ASRE Moreste Florenzano e per conoscenza anche al sindaco di Isernia Piero Castrataro affinché i due dirigenti procedano con i provvedimenti di loro competenza necessari al ripristino del corso. La carenza di personale, il debito sanitario che aumenta nonostante i tagli, il funzionamento di alcuni reparti a intermittenza, stanno portando alla morte i presidi ospedalieri e mettendo ulteriormente a rischio il diritto alla tutela della salute dei cittadini. A dirlo è la segretaria regionale della UIL, Tecla Boccardo. Tutto questo marasma aggiunge la sindacalista genera un arretramento del territorio in termini sociali, civili ed economici. La mancanza di personale, conclude Tecla Boccardo, seppur abbia determinato nel breve periodo un risparmio di costi, è una delle cause principali della generazione del debito perché crea disservizio e non dà risposte, spingendo l'utente a rivolgersi presso altre strutture fuori regione, incrementando la mobilità passiva. E ora andiamo a Termoli perché dopo un anno è tornato sul palco del Festival del Sarà il direttore dello stabilimento Stellantis, Davide Guerra, per discutere quali saranno i prossimi passi concreti sulla strada della realizzazione della fabbrica di batterie, il servizio è di Francesca Danversa. Termoli può diventare un punto di riferimento delle nuove tecnologie a livello europeo, lo ha detto il sindaco di Termoli dal palco del Festival del Sarà in Piazza Duomo. Stellantis, aggiunto Francesco Roberti, ha deciso di investire a Termoli perché ha riconosciuto che la città negli anni si è distinta per la classe operaia, i dirigenti e i tecnici, tutte valutazioni che hanno portato a riconoscere a concluso che lo stabilimento è all'altezza di affrontare questa sfida, quella dello sviluppo sostenibile. Dopo un anno dall'ultima edizione del Festival si torna a parlare della Gigafactory con il direttore dello stabilimento di Termoli, Davide Guerra, che ha confermato che la fabbrica verrà riconvertita entro 4-5 anni, ma i primi lavori inizieranno entro la fine del 2023. Un tema caldo quello della fabbrica di batterie che sorgerà a Termoli, la terza in Europa e il suo destino ha tenuto per mesi sul filo del rasoio gli operai che erano incerti sul loro futuro. Ora i giochi sono fatti e in queste settimane sono iniziate le prime uscite volontarie, 80 per Termoli. La valle del Biferno del Molise, ha detto Roberto Di Pardo, presidente del COSIB, diventerà un incubatore e un acceleratore nell'ambito dell'idrogeno e delle tecnologie per il suo sviluppo. Ancora una volta i Cinque Stelle rinnegano la propria storia e confermano di aver ingannato gli elettori campobassani promettendo una rivoluzione che si è trasformata invece in una bieca restaurazione e in una rincorsa ai facili consensi. A dirlo è il capogruppo della Lega al comune di Campobasso Alberto Tramontano a proposito dell'assestamento di bilancio che domani sarà presentato in consiglio dalla Giunta Cinque Stelle, guidata da Gravina, un assestamento di bilancio figlio di una visione miope e lontana dalla realtà, conclude Tramontano che non tiene conto delle difficoltà che le famiglie e le imprese stanno vivendo in questo particolare momento. E ora parliamo invece delle tante segnalazioni che continuano a riguardare lo stato di degrado delle strade e dei marciapiedi, sempre a Campobasso. Oggi particolare attenzione a largo crapsi in queste condizioni dicono i residenti da tre anni. Sentiamo Giovanni Di Tota. Non è un angolo di un quartiere periferico né il marciapiedi di una contrada. Qui a largo crapsi, pochi metri quadri intitolati al politico e sindacalista nato a Santa Croce di Magliano alla fine dell'Ottocento, è pieno centro cittadino, incrocio tra via Cardarelli e via Garibaldi. Un angolo nel quale qualche pensionato della zona si ferma a sedere sulle panchine ma più che altro un punto di passaggio. In quei pochi metri le mattonelle sono saltate da un paio d'anni. Tre, dicono i residenti della zona, che attendono in vano dopo decine di segnalazioni fatte per venire all'amministrazione comunale che la zona venga aggiustata. Anche la pavimentazione del marciapiede è rovinata ma nessuno è ancora intervenuto, dicono i titolari di alcune attività commerciali. Un tema sollevato a più riprese dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, tornato a rimarcare la necessità di riparare buche sulle strade cittadine ma anche diversi marciapiedi del centro città. Ad oggi ha precisato Annuario dei lavori promessi dall'amministrazione comunale. Nemmeno l'ombra, ma il tempo delle attese è finito, ha concluso l'esponente comunale. Da Palazzo San Giorgio attendiamo risposte. E intanto da Palazzo San Giorgio arriva la precisazione dell'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Amorosa che ha ricordato che ad agosto è in programma la manutenzione straordinaria del largo Crapsi e che diversi interventi sono previsti per il rifacimento dell'asfalto di strade e marciapiedi. È stato uno dei più grandi linguisti e filologi italiani, Luca Serianni. Lo ha voluto ricordare a Macchiagodena Massimo Brai, direttore della Treccani e sentiamo ancora Valeria Migliore. Il piccolo paese di Macchiagodena in Molise è ormai famoso per essere un borgo della lettura dove turisti provenienti da ogni dove possono soggiornare gratuitamente in cambio di un libro. Il progetto Genisloci lanciato dall'amministrazione guidata dal sindaco Felice Ciccone con l'aiuto del giornalista Peppe Rapuano ha portato nel borgo anche Massimo Brai, direttore di Treccani ed ex ministro dei beni culturali. Con l'occasione Brai ha lasciato un commovente ricordo di Luca Serianni, uno dei più grandi filologi e linguisti italiani morto in un tragico incidente giovedì scorso. È una grande perdita per il mondo della filologia dantesca ma della lingua italiana. Sì, devo dire che il dolore è veramente infinito perché Luca Serianni era non solo una persona che ha dato moltissimo alla filologia, alla linguistica, ma lo dicevo proprio poco fa, ascoltando Luca Serianni si aveva proprio l'impressione di questa cultura enciclopedica. uno ricordo quando mi spiegava come avevamo avuto la grande forza di esportare la lingua italiana grazie alla lirica e raccontando di questo ti metteva in guardia dall'eccesso di parole straniere che oggi invece tendiamo a importare. A parte questa morte così terribile, crudele, ma insomma Treccani Luca Serianni ha dato moltissimo portando avanti questa grande scommessa che è nata con la nascita dell'istituto quasi cento anni fa che è l'osservatorio della lingua italiana. Perderlo è perdere, come dire, veramente una figura, un protagonista di questo lavoro. Devo dire che tra i suoi grandissimi meriti però è quello di aver creato una grande scuola di ricercatrici e ricercatori che porteranno avanti questo suo lavoro. È previsto un seminario della scuola edile nel corso del quale sarà illustrato il progetto destinato ad attività gratuite di consulenza e affiancamento alle imprese sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Saranno illustrate anche le opportunità per le imprese che vorranno adottare un sistema di gestione aziendale, tra queste la riduzione del premio INAIL, il miglioramento dell'immagine aziendale e l'autocontrollo degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il seminario è in programma mercoledì alle 17 a Campobasso all'auditorium della scuola edile. Una voce invidiabile che ha coinvolto e ha fatto ballare il pubblico, parliamo di quella di Francesco Gabbani che ieri sera è salito sul palco per la serata di chiusura dell'RDS Summer Festival e c'era per noi Andrea Nasillo. A stelle mi commettivi con quell'infelicità, non la messa o non è finita figlia, andate in pace caro al vento nessun senso dei voli, tutto tace e allora avanti il popolo mi smerano un miracolo e la voglia voluto con ame, ame. Hanno cantato e ballato tutti sul prato del parco comunale di Termoli, gran finale dell'RDS Summer Festival con Francesco Gabbani. Una voce invidiabile, una cura maniacale per le corde della chitarra, un vero musicista capace di coinvolgere la folla che ha intonato i suoi brani di maggiore successo. Dal primo sigillo a Sanremo con le nuove proposte era il 2016 quando sbaragliò la concorrenza con Amen, ma sul palco dell'RDS Summer Festival Gabbani ha cantato per un'ora tra le granite e le granate, eternamente ora, volevamo solo essere felici, ha lanciato continui inviti alla pace tra i suoi successi il secondo posto a Sanremo due anni fa, viceversa. Non poteva mancare il brano del trionfo a Sanremo del 2017, occidentalis karma. Non è servito incitare il pubblico che non si è fermato un attimo, entusiasmo e adrenalina delle grandi occasioni. Andiamo avanti con l'ampia pagina delle manifestazioni. Estive perché Sepino festeggia Santa Cristina tornando alla normalità con una serie di eventi scanditi. Come da tradizione è partecipatissima la messa e la processione accompagnata dal concerto bandistico di Conversano e c'era per noi Giuseppe Carriera. E' una festa sentitissima quella di Santa Cristina patrona di Sepino, più giorni di iniziative ed eventi scanditi da consuetudini e momenti liturgici. Dopo l'inaugurazione del museo dedicato alla Santa avvenuta venerdì, il 24 luglio ha visto la solenne celebrazione equalistica all'aperto in piazza Nerazio Prisco. L'arcivescovo di Campobasso, Boiano Monsignor Brigantini, ha presieduto il rito, seguito poi dalla processione in cui il busto della Santa è stato accompagnato da autorità e tanti fedeli. La banda di Conversano si è alternata nell'accompagnamento musicale con i tre canti tradizionali dedicati a Santa Cristina, tra cui il Magnaria, a seguire la deposizione della corona dall'oro ai caduti con una cerimonia ufficiale. Da sempre la tradizione di ospitare a Sepino due grandi concerti bandistici, anche quest'anno, sia negli appuntamenti serali, sia nelle matinée, due realtà musicali del sud, città di Gioia del Colle, diretta da Rocco Eletto, e città di Conversano, diretta da Susanna Pescetti. Hanno portato musica sinfonica in piazza in grande stile. A completare il calendario, i momenti di spettacolo e soprattutto quelli dedicati agli emigrati, a cui da 119 anni è dedicata la giornata del 25 luglio. Le iniziative sono state curate dal Comitato Festa Santa Cristina, guidato da Luciano Iamartino, nuovo coordinatore, nominato dal parroco. E dopo la pausa dovuta alla pandemia, torna quest'anno anche la rassegna del Teatro di Pietrabbondante, quattro gli spettacoli gratuiti, dal primo al 12 agosto. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Molise Cultura in collaborazione con il Comune Alto Molisano. Ce ne parla Marta Martino. Dopo gli anni di pausa dovuti alla pandemia, la Fondazione Molise Cultura e la Regione Molise, in collaborazione con il Comune di Pietrabbondante, fanno ripartire la stagione del teatro a mille metri d'altezza e un cartellone con quattro spettacoli. Apertura lunedì 1 agosto con inizio alle 19 con Epidicus, una delle ultime commedie scritte da Tito Maccio Plauto, che racchiude tutti gli ingredienti dell'autore latino e può quindi considerarsi un sunto del suo teatro. Infine, venerdì 12 agosto alle 19, chiusura con Rudens di Plauto per la regia di Giuseppe Ergirò, per una produzione targata Teatro nella città. L'ingresso ai quattro spettacoli nel Teatro Sannitico è gratuito, con posto libero dalle 18.30. E ora andiamo a Frosolone per il grande successo di Frosolone in Vespa. La manifestazione ha richiamato in Molise 700 centauri alla scoperta di bellezze naturali, storiche e sapori tipici. Sentiamo ancora Giuseppe Carriera. Un paese invaso dai colori e dal classico rombo dei motori due tempi dello scooter più conosciuto del mondo. Frosolone in Vespa 2022 è stato un successo. Sotto una lunga striscia tricolore, circa 700 vespisti provenienti da diverse regioni d'Italia, dalla Campania alla Liguria, si sono riversati in piazza Volta per il riordino e la partenza ufficiale verso Colle dell'Orso. Proprio in montagna è stato allestito un ricco ristoro con specialità come la vacca argentina e il caciocavallo della zona, anche in versione impiccato. Un raduno che in due giorni ha dato la possibilità a tanti di visitare e conoscere le bellezze della regione e del paese. Presente all'iniziativa anche il presidente della regione Donato Toma, che accompagnato tra gli altri dal sindaco Felicea Eniro, dall'assessore regionale trasporti Quintino Pallante e dal vicepresidente della provincia e vice sindaco Nicola Di Biase, ha visitato il paese e i suoi musei, lo dando una iniziativa che, ha detto, si colloca quasi naturalmente nel contesto territoriale perché la Vespa è un autentico must per quanti vogliono vivere esperienze a diretto contatto con la natura. Obiettivo centrato dunque per gli organizzatori dell'associazione Frosolone in Vespa che vogliono condividere con tanti turisti su due ruote sia la passione motoristica che l'orgoglio di promuovere il territorio. E con Frosolone in Vespa termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte. Buonanotte.